Amore incondizionato E' un po' difficile amare ogni cosa che fa una persona Allora, cosa ne penso? Mi sembra di stare alla polizia Signor Carabiniere, l'amore incondizionato ne penso che sia una cosa piacevole per chi la prova Angela, l'amore incondizionato Ci devono essere delle condizioni molto particolari per noi Penso che le dimensioni sono sei La quarta dimensione è l'intelletto La quinta è la sensazione E la sesta è il sentimento E le prime tre? Sono lunghezza, larghezza e spessore L'amore è sempre condizionato da qualcosa Allora, cosa ne pensi dell'amore incondizionato? Oggi è morta mia madre e voglio solo pensare a organizzare il suo funerale d'ordine Lo sai bene che cosa esiste? Per la musica e per l'arte a prescindere Il resto non conta un caso L'amore incondizionato Sì, per me esiste, tu lo sai benissimo Io lo sto cercando Cioè accetteresti anche il tradimento? Non lo so Può essere, dipende Però appena parli di amore incondizionato Dico, appena parli di amore incondizionato Ti vengono subito in mente le cose Come mai? Non lo so Dorothy, l'amore è un furto Hai capito? Cosa vuol dire? Che sei vampiri, si ruba il sangue alla gente Basta Basta con l'amore Deve rispecchiare i valori basi che ho anch'io Quindi l'unica condizione è a monte Cioè ci conosciamo e poi ti do amore Però io per amarti devo conoscerti E' importante che prima di arrivare a scoprire l'amore Io devo conoscermi, ovvero obbedirmi veramente Nel senso, non si tratta di negare i difetti dell'altra persona O di non vederli, no? Si tratta semplicemente di capire Riconoscere per quello che sono Egoismo Non puoi chiedere la responsabilità Scusa, mi sto parlando La responsabilità Già mi hai chiesto due volte Non puoi chiedere una responsabilità così alta a una persona Cioè l'amore non può essere incondizionato E' condizionato Da una responsabilità altrui Se sei responsabile e rispettoso Forse è giusto anche il merito di essere amato Dico, se solo questo me ne vale L'amore incondizionato è la condizione dell'amore L'amore tra coppie ci sono le regole Non esiste l'amore incondizionato Che regole? Ci sono le regole di rispetto Il rispetto nel termine vuol dire distanza L'amore incondizionato è per l'arte, per me Per quel che mi riguarda Per la musica e per la pittura Il resto è merda, è mediocrità Questo vuol dire che se la musica ti delude la ami lo stesso? Assolutamente Sei mai stato deluso dalla musica? Certo Cosa vuol dire? È che talvolta ti aspetti delle cose che non arrivano Che rimani deluso È normale Capita anche quello Ma è quello che ti fa più forte che ti fa andare avanti Sono materno Un figlio e basta Perché? Spiegamela Perché giusto un genitore può amarti qualsiasi cosa tu faccia incondizionatamente Allora l'amore incondizionato della mamma è comunque un interesse Sì Perché? Spiegami Perché comunque in realtà sono le proiezioni che hanno i se stessi che vogliono riprodurre verso una persona che hanno generato In realtà se ci fai caso effettivamente non è che ti faccia invece come sei In realtà è quello che ti fa Dai Nino una tua idea sull'amore incondizionato Tu che te ne vai e continui ad amarmi lo stesso Eh sì Vorrei Claesai Google Adesso Qui Il nostro Disney Quasi Adesso Quasi Adesso Adesso